Davanti a Piazza Palazzo di Città, dove sta la sindaca della città metropolitana, abbiamo allestito una mostra, si chiama GAM, Galleria d'Arte Mostruosa. Abbiamo raccolto in questi mesi tutte le segnalazioni che ci sono arrivate dalle scuole di Torino e provincia. Dei tetti che crollano a spazi chiusi fino a Corrimano che feriscono e mandano in ospedale i ragazzi. Crediamo che le scuole dovrebbero essere quei posti dove gli studenti entrano per imparare, entrano per andare a costruirsi quel bagaglio culturale che è fondamentale, ma dovrebbero essere i posti in cui ci si sente sicuri. Questo non accade, non solo a Torino, non accade neanche in Italia. È un problema diffuso su tutto il territorio nazionale. Le politiche di taglio all'istruzione, che ormai da anni a questa parte vengono portate avanti dai vari governi che si sono susseguiti, hanno portato le scuole in situazioni disastrose. Vediamo ad esempio la questione sismica. La maggior parte delle nostre scuole non rispettano i criteri appuntanti sismici, addirittura sono state costruite ed edificate prima che questi criteri venissero introdotti. E' mai più revisionate. Un problema che tocca anche gli impianti. Qui a Torino abbiamo visto la questione dei riscaldamenti. Come ogni anno, con il freddo, con il gelo, si hanno problemi con le caldaie, con le tubature, con i termosifoni che non funzionano, gli studenti che stanno al gelo. L'abbiamo visto al Birago, l'abbiamo visto a Regina Margherita e in tante altre scuole di Torino. I problemi sono molti e sono diffusi. Come ad esempio quegli spazi della didattica inaccessibili agli studenti, oppure l'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo all'interno della mostra non solo toccato il tema dell'edilizia, ma anche il tema dell'alternanza scuola-lavoro. Alternanza che potrebbe essere utile, se sinonimo di formazione e non di sfruttamento. Abbiamo visto come il Ministero dell'Istruzione ha firmato un patto con 16 campioni, campioni dell'alternanza, li definisce il Ministero, e li ha anche finanzati con 100 milioni. Sono aziende multinazionali che sfruttano i propri dipendenti e probabilmente sfrutteranno anche noi. Sono aziende criticabili dal punto di vista etico, come ad esempio San Paolo, come ad esempio Eni, come ad esempio McDonald's, sono 27 mila percorsi con queste 16 aziende, di cui 10 mila con McDonald's. Capiamo che la risposta alla disoccupazione giovanile non può essere certamente lo sfruttamento di ragazzi e l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Grazie.